Un buongiorno, siamo qui collegati da Inverso Pinasca. Oggi andremo a, diciamo, risistemare completamente il pump track di off-road. Arriverà una draga e, dopo aver già fatto una specie di spostamento preliminare di terra, per avere meno lavoro da fare oggi, praticamente andremo a risistemare tutte le gobbe di questo fantastico pump che diventerà una bomba. Inverso Pinasca Inverso Pinasca Inverso Pinasca Inverso Pinasca Inverso Pinasca